Mi chiamo Natalia Nuzia, sono la titolare del bar Pasticceria Fratelli Nuzia all'Aquila. Qui si produce anche il famoso torrone Fratelli Nuzia. È una ditta che esiste dal 1835 sempre in questo negozio, in questo locale. È un locale storico, uno dei locali storici della città e praticamente rappresenta un po' il simbolo come lo ha rappresentato appunto l'8 dicembre 2009 quando abbiamo riaperto. È stato bello perché è stato un momento di forte unione della città e soprattutto la cosa che mi ha commosso tanto è vedere le persone anziane che tornavano qui dicendomi per fortuna ne avete riaperto perché almeno una cosa intera della città me la ricordo, la cosa della mia vita mi ricordo. Quindi per me è stato un motivo d'orgoglio riaprire, riprodurre il mio torrone qui e appunto ridare un po' di felicità alla piazza anche se per poco tempo perché poi come avete visto insomma non è ancora sistemata. Io spero vivamente che in futuro appunto si possa tornare agli odori del mercato oppure all'odore delle nocciole che noi mandavamo su tutto il centro storico. Adesso viene prodotto ancora qui il torrone però purtroppo la nocciola tostata non può essere creata adesso qua. E appunto quindi è un augurio che faccio agli aquilani che faccio a me stessa di poter tornare a una normalità oppure vederla più bella di prima l'aquila.